Ciao a tutti! Oggi giocheremo a Granny. Eh sì, giocheremo a Granny. Ma li mettiamo entrambi. Sì, easy. Ah, sto contento per i 22.000 iscritti. Tra poco arriveremo ai 23.000, speriamo presto. Fantastici siete. Ho fatto tanti video dei miei gatti, Tigro, Tiffany. E vedo che mi piacciono, allora continuo a farne. Allora, vediamo qua. Non c'è un cacchio. Perfetto. Alzo un po' di mostrato, comunque. E lavorare? No c'è un bow? No. Oh no. Oh no. Oh no. ah scusate non stavo parlando, comunque hanno aggiunto dove i nomi ti vedono o parlano non mi ricordo come si chiama, c'è la fatta di lover, è un pazzito, vuole aggiungere tutti sui giochi da penino ottimo non mi ricordo come si chiama, benzina per la barca, io faccio come ho fatto ieri, trovo facce, quindi ho trovato questo, la cosa è come l'ipot, il manuale ce l'ho al nonno, c'è a vedere l'ipot, adesso non posso usarlo eh sto nonno eh si è un po' noioso però però devo aspettarvi le ma ok già via ah benzina fatta, fatta è nata in bagno perfetto c'è il nonno lì ma allora però ma quante trappole ah borlo ma che trappole ha messo ma fa un bagno dai mi stavo per liberare dai quasi 23.000 me ne mancano boh non so quanti ma la spazio di arrivare a 100.000 così mi da grazie a voi mi date la taraghetta mi arriva la taraghetta non so se però il minore mi p***ghe la dando guarda qua me l'ha fatto accadere e ci risiamo è bello la pro spero che non lo scotterai ma per me non c'è già fatto lì e niente e praticamente quando continuo tutti gli spi sono eh no come faccio e ne sono morti sono morti sono morti comunque granny è veramente noiosa noiosa c'è boh che vuole se siano perché io non ho aperto non ho aperto la porta lì sopra non ho aperto la porta quindi non potevo mamma mia mamma mia ah whip on key sai cos'è la whip on key è una chiave o c'è il fucile ah è più diverto che mi prendete ma spesso aspetta un attimo ma io con la doorlock posso no da fuori neanche cioè proprio non posso dai comunque io quando io appoggiamo una chiave nel cassetto cioè nemmeno 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 quello si può perché se tu appoggi una chiave nel cassetto quello comunque fa rumore quello comunque fa rumore qui non serve non serve comunque serve cioè serve a poco se non serve a niente ma tu lavi la mangiura perché poi ti scoprò il test guarda pulivo il lavandino il lavandino stavo pulendo vabbè il nonno lo tiriamo col vasetto ma io sto scemo sto scemo sto scemo mamma mia proprio scemo scemo proprio un'altra trappola un'altra trappola affan bagno guarda quanta roba questo questo gioco mamma mia bottee perfetto questa vado a mettere la barata qui scotch non mi serve la chiave la prendo l'unica cosa che non mi piace di questo gioco che hanno aggiornato è che quando tu cadi da un tipo ecco dai tombini quando tu cadi dai tombini ti fatti ti rompi che ti cade cade per terra ma non ti rialzi subito come c'era una volta maniglia e questo è una cosa che a me non piace tanto di questo gioco nel buco ci metti tanto ad alzarti io non ho quello io non ho quello io non ho però neanche dei nuovi post non fanno nulla non c'era che non fanno nulla altro pezzo di quadro perfetto non lo metto cioè almeno fai qualcosa no non fanno nulla ovviamente che non fanno nulla scherzi volante vedi che fa così è una cosa che non dovevano aggiornare però questa ah che c'è una cosa molto carina sapete che con la benzina si può esplodere con il fucile però no la uso per l'elicottero prima di nuovo devo riprendere il fucile ho sbagliato ho scemo scemo ciao nonna oh adesso si che mi sono liberato mamma mia no no non è qua guarda anche nel bagno guarda vedi cadi c'è una volta c'è una volta c'è una volta c'è una sola sul computer adesso no l'hanno messa anche qua l'hanno messa anche qua ma fa un bagno boh non so c'è una volta che la fanno posta e un giorno io vi farò salutare anche mia madre allora andiamo a prendere questo quadro mettiamo qua se questo video raggiunge i 100 like ve la faccio conoscere altrimenti no quindi mettete subito tutti i like anzi i 50 like e ve la faccio portare giuro quindi voi state lì a mettere like mi raccomando conto su di voi mi raccomando eh 50 like se ne superiamo ve la faccio conoscere in un dubbio 1 e 2 godo ora praticamente stiamo facendo l'elicottero l'elicottero stiamo facendo tranne avevo fatto anche un pezzo di vidi di barca però qua vabbè stacchiamo la corrente sono già tornati eh no devo la prendere il cilio allora se dai dai che pizza che pizza ok ok andiamo andiamo perfetto passato il figlio allora granny 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 god allora crowbar perfetto una no 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 da più le scatole dicevamo ho trattato l'end will, l'andiamo a mettere comunque secondo me scappò dalla porta perché mi stavo tirando tutto per la porta perfetto anche quella è fatta yes dai 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 non si può così vabbè dai là che succede? succede succede già purtroppo così e così ma non è un problema ah sì perché adesso non mi ricordo dove avevo lasciato il fucile lì il problema adesso grazie a tutti perfetto vai vediamo qui ah l'ho dimenticato qua perfetto allora lo andiamo a mettere qua va bene sotto cosa c'è fusibile eccoci va bene ok così con questo qua possiamo passare sopra in modo che non cadiamo giusto perché se no cadiamo giusto o non sbaglio vabbè già pure le granate wow adesso mi diverto all'elicottero sì sì una due sì vai sì perfetto allora lo scotch serve che è qua ecco perfetto già ora 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 serve la benzina ok e via libera sperando che si può ancora usare perché se no sono sono cavoli si può sì si può ok così così direi si fa esplodere con il fusibile in modo che punta la punta no no aspetta aspetta ok uffa ultima possibilità se non la becchiamo cari miei siamo fregati ah uffa ah ma scappiamo non pensate che non scappiamo perché scappiamo pensiamo mi subiccagremi di solito cosa faccio ma aspetta tirala qua aspettate aspettate venite nonnina vieni nonnina eccola qua BOOM goooood colca miseria e adesso chi la prende e chi va dell'elicottero dimmi che passo di qua è qua? non è qua dov'era? non mi ricordo dov'era è praticamente troppo corta non mi ricordo dov'era ah si 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 no dov'era? poca miseria eh ah è qua ora eh speriamo bene senza il nonno proviamo? ok possiamo andare via ciao ciao oh è l'ultimo giorno ciao a 3 2 1 si pa 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 e quindi e quindi il primo sotto 3 2 1 pa ciao troppo bello ha ha la la per i di le vienete ciao